Un convegno per fare il punto della situazione sullo stato della cooperazione sociale sul suo riposizionamento a seguito della crisi economica, quello organizzato presso la sede di Lega Coop nazionale dal Lega Coop Sociali Lazio. Un incontro in cui si è preso spunto anche per analizzare la nuova riforma sui servizi sociali presentata dall'assessore alle politiche sociali della Regione Lazio Aldo Forte, legge che secondo il presidente di Lega Coop Sociali Lazio, Pino Buongiorno, e secondo il capogruppo del PD alla Regione Lazio, Esterino Montino, presenta alcuni nei. Secondo lei c'è effettivamente un modo per uscire dalla crisi? Noi ci stiamo interrogando fortemente su questo tema. Abbiamo avuto ieri una giornata di riflessione interna con le nostre cooperative, nella quale abbiamo affrontato proprio i problemi imprenditoriali della crisi, abbiamo visto quali sono le ripercussioni sulle singole imprese, i bilanci, i dati di bilancio e stiamo cercando di mettere in piedi una serie di strumenti e di servizi per le cooperative per contrastare questa crisi, quindi strumenti finanziari, reti di impresa e via dicendo. Riteniamo però che un ruolo importante lo debbano avere le istituzioni, nel senso che siamo molto preoccupati dell'idea che c'è di welfare anche in questo Paese, per cui sembra quasi che sia un ostacolo allo sviluppo, che sia un peso mal sopportato e quindi i primi tagli che arrivano arrivano sempre in questo settore. Noi crediamo invece che il welfare possa essere uno strumento anche per lo sviluppo, un motore del modello di sviluppo. Per questo chiediamo di investire in questo settore e di dare futuro a questo settore e alle nostre cooperative. Oggi quindi è una giornata importante perché ci vogliamo confrontare sia con chi governa che chi sta all'opposizione per vedere insieme quale via di uscita poter trovare. C'è in ballo una legge regionale che per noi è importante perché può dare dei punti di riferimento certi e delle regole certe in questa regione per le politiche sociali. C'è però bisogno di modificarla, di rivedere molte cose. Insomma il testo che è stato elaborato da Forte va discusso, c'è una discussione in atto all'interno delle organizzazioni. Bisogna che a questa discussione ci sia un po' più di concertazione e che anche l'opposizione partecipi perché questo tema del welfare noi chiediamo che sia un problema, non vorrei dire super partes, però insomma che debba trovare dei punti di incontro maggiore tra chi governa e chi sta all'opposizione. Un tema molto scottante che riguarda la Regione Lazio, un tema troppo spesso bisfrattato è quello dell'assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare di cui il Lega Coop Sociali Lazio si occupa, su cui però bisogna sicuramente investire più fondi. Ecco la nuova legge dell'assessore Forte vi rassicura in proposito oppure cosa? L'assistenza domiciliare è un po' il core business della cooperazione sociale, è l'attività più importante che è seguita dalla cooperazione sociale. Nella città di Roma è organizzata, anche lì stiamo ragionando con l'amministrazione, su una rivisitazione delle regole dell'assistenza. C'è un regime di accreditamento delle cooperative, è normata da tempo. Riteniamo che questo settore però all'interno della Regione vada un po' troppo a macchia di leopardo, ci sta una sorta di giungla in cui le regole sono diverse da comuni limitrofi, per cui i servizi funzionano in un territorio in un certo modo qualche chilometro più là diversamente. Riteniamo quindi che ci sia bisogno di regole. Non ci rassicura, ci rassicura il fatto che ci sia una legge che dia regole. L'attuale testo ancora è troppo confuso, non ci convincono alcuni strumenti che vuole mettere in campo, l'oasi, abbiamo paura che si tratti di nuovi carrozzoni che invece che aiutare il settore pongano questioni di appesantimento dell'economia regionale. Per cui crediamo che ci sia molto da cambiare. Però pensiamo che ci sia bisogno di una legge perché è importante mettere delle regole su come si devono svolgere i servizi e su quali debbono essere anche le tariffe di questi servizi, perché questa giungla sta uccidendo non solo i servizi ma anche le imprese che ci lavorano. Il taglio dei posti letto doveva andare di pari passo con un aumento dell'assistenza domiciliare. Purtroppo questo non si è verificato ancora e si stanno creando seri problemi per tanti anziani che addirittura rinunciano alle cure. Cosa si sente lei in qualità di Presidente di Lega Copp Lazio di chiedere all'assessore Forte e a Estelino Montino? Su questo noi siamo molto agguerriti, nel senso che riteniamo giusta una politica di riduzione di posti letto a favore di un ospedale del territorio, di una sanità che sia più legata al territorio, al domicilio delle persone perché fa risparmiare molto costi eccessivi della sanità, possono essere distribuiti meglio in cure più di prossimità. In questo terreno dell'assistenza domiciliare la cooperazione sociale si candida da sempre come lo strumento per attuarla. Su questo ci sono molti ritardi. Noi crediamo che ci sia bisogno di andare a fare dei passi molto forti verso l'integrazione sociosanitaria perché molte questioni che vengono trattate in maniera sanitaria sono invece di competenza sociale. E riteniamo che sia la cooperazione sociale invece a dover svolgere questo ruolo. Purtroppo nella sanità, che è il problema del Lazio, perché lì nascono le questioni economiche di questa regione, lì nascono i buchi forti del bilancio regionale, è stata una sanità che più che ha i bisogni dei cittadini ha guardato gli interessi di molti imprenditori troppo spregiudicati. Per cui noi ci candidiamo non solo perché abbiamo la professionalità, ma anche per l'eticità, che possiamo mettere in campo. È un settore dove c'è bisogno di costruire un'etica diversa, di fare più attenzione ai cittadini e ai suoi bisogni. La cooperazione sociale è lì, è sul territorio, è a contatto diretto tutti i giorni con i cittadini e quindi crediamo che possiamo portare un contributo straordinario non solo nell'espletamento di questo servizio, ma anche nel saper capire quali sono i bisogni, nel saper capire in tempo i bisogni dei cittadini e offrire un'offerta di servizio molto adatta ai bisogni, di prenderci in carica totalmente i problemi sociali e sanitari dei cittadini. Oggi partecipa a un incontro organizzato da Lega Coop Sociali Lazio per discutere della nuova regge presentata all'assessore Forte, ancora in discussione, e soprattutto per verificare se ci siano dei modi per uscire dalla crisi. Uscire dalla crisi significa fare delle scelte prioritarie completamente diverse rispetto a queste. In questo caso non mi riferisco alla polverina, non mi riferisco a Forte, mi riferisco al Governo nazionale, che ha tagliato la spesa sociale per alcuni capitoli persino per l'80%, quindi un taglio enorme, un taglio che mette in ginocchio il sistema dal 2012, il 2013 sembra essere confermato, quindi il vero problema adesso è l'inversione di rotta, cioè bisogna, in sostanza bisogna fare delle scelte, bisogna far pagare magari quelli che hanno grandi patrimoni e fare una politica sociale attenta, sapendo che ci sono alcune categorie, alcune frange della popolazione che sono enormi, parliamo di milioni di persone che non hanno disponibilità, che stanno in difficoltà, difficoltà sociale, difficoltà economica, e quindi bisogna avere un'attenzione particolare. E questa è la prima questione, la prima priorità. La seconda priorità è fare una politica sempre più vicina ai territori, cioè l'idea di Forte, di in qualche modo riformare la vecchia legge sul welfare e riportarla a dimensione provinciale, dimensione asla per intenderci, questo cozza direttamente con funzioni specifiche che hanno i singoli comuni. Bisogna integrarla col sistema sanitario, il sociale e sanità, non sociale distaccato dalla sanità, quindi c'è un confine, qualche volta un confine tenue, penso agli Xarticoli 2026, penso a tutta una serie di prestazioni socio-sanitarie che vengono fatte dalle asle, quindi la dimensione distrittuale è la dimensione ottimale, perché chiama in causa anche i comuni, i comuni che stanno dentro, immagini una dimensione asle dove ci sono 40 sindaci che fanno la discussione, la discussione non avrà mai termine, è un'altra cosa invece i 4-5 sindaci che magari sono coinvolti direttamente a livello di un distritto, quindi cambiare completamente l'ottica e superare questa ottica sua che è centralizzare un po' tutte le decisioni e soprattutto l'amministrazione, io continuo a dire che la regione deve fare solo programmazione e legislazione, e non amministrazione corrente. Soddisfatto per questo ennesimo confronto con il mondo del sociale, l'assessore Forte che ha spiegato come tutto sia perfettibile, l'importante è concertare e collaborare per il bene della società. Il punto di forza è sicuramente quello di ridisegnare un sistema dei servizi sociali che così com'è non funziona più. Questo sistema, composto da 55 distretti, ha portato il Lazio a costruire un'organizzazione che eroga servizi sociali, che è già qualcosa rispetto al nulla che c'era prima. Oggi però con i tempi che cambiano, una società che muta molto in fretta, la necessità di dare risposta a nuovi bisogni, risorse che diventano più scarse, è necessario creare un sistema più innovativo, capace di dare risposte adeguate ed efficienti, partendo da un'analisi dei bisogni di una società che cambia. Penso a bisogni o questioni che sono diventati fenomeni strutturali nella nostra società, pensiamo al fenomeno degli immigrati. 15 anni fa era una questione che forse riguardava solo il Comune di Roma, pensiamo alle dipendenze, oggi ci sono nuove dipendenze dal gioco d'azzardo, alle dipendenze dai computer, dalle nuove tecnologie, tutte questioni che ci vengono poste da una società che cambia e alla quale questo sistema non è in grado di dare risposte. Ci sono sempre più famiglie in difficoltà come tutti i dati ci dimostrano e questo necessita di una nuova organizzazione, di nuovi strumenti per dare risposte adeguate. Noi le abbiamo trovate attraverso queste oasi che sono delle aziende consortili con un'autonomia di bilancio, con degli ambiti più grandi, più o meno grandi quanto le ASL, con una propria amministrazione e non un'amministrazione precaria che oggi ha il sociale, per cui spendiamo dei soldi ma alla fine il personale è sempre precario e per cui questo si riversa anche sulla qualità del prodotto che questi distretti erogano, facendo sì che il sociale viene visto sempre un po' come un settore di serie B. Invece in una regione che è in pieno piano di rientro, che ha la necessità di abbassare la spesa sanitaria, ha la necessità di creare un sistema di servizi sociali capace di dare quelle risposte che magari la sanità non può dare più e che molte volte magari possono essere la risposta più appropriata e sicuramente quella meno costosa rispetto ai ricoveri in ospedali. Quindi queste oasi che vanno a sostituire 55 distretti troppi, ognuno dei quali ha creato un proprio sistema e quindi creando una spereguazione sia tra i territori, perché ognuno si è inventato un proprio modo per erogare i servizi sociali, e sia riguardo ai bisogni. Per cui alcune si danno delle risposte in alcune province, in alcuni municipi e in altri no. Dobbiamo riequilibrare questo mettendo dei criteri strutturali sulla distribuzione della spesa e dobbiamo far sì che individuando dei livelli minimi di prestazione che quei livelli devono essere garantiti in tutti i territori della nostra regione. Questo purtroppo oggi non avviene e vorremmo cambiarlo. Dopodiché non abbiamo assolutamente un approccio ideologico. Se ci sono delle proposte ben vengano, basta che la smetta di dire che così com'è va tutto bene, perché la realtà è sotto gli occhi di tutti. Io ho incontrato tutti i sindaci delle province della nostra regione, sto incontrando il mondo della cooperazione, il mondo del volontariato. Oggi concludiamo in Consiglio regionale la lunga fase di audizione, oltre 100 audizioni di soggetti sindacati, mondi, associazioni, che hanno voluto partecipare a questo percorso. Però da questo momento la politica deve fare la propria parte. La politica, se vuole essere tale, vuole svolgere ancora un ruolo in questo Paese, dopo aver ascoltato tutti, dopo però deve decidere. Si deve assumere l'onere di decidere. Ed è quello che cercheremo di fare. Assessore, una battuta soltanto sull'assistenza domiciliare. Assistenza domiciliare che viaggia di pari passo con la sanità. I tagli dei posti letto devono infatti corrispondere a un aumento in molti casi dell'assistenza domiciliare, cosa che purtroppo, anche per mancanza di fondi, non è accaduto. Ecco, la sua legge si impegnerà su questo. Ci saranno nuovi fondi per l'assistenza domiciliare? Noi, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare che eroghiamo oggi attraverso i servizi sociali, c'è già stato un potenziamento delle risorse. E comunque sarà una delle cose su cui punteremo di più attraverso, ad esempio, l'introduzione del voucher sociale, dando dei titoli di acquisto, di prestazioni sociali agli aventi diritto e quindi spostando il momento fondamentale dalla gara d'appalto invece all'acquisto da parte del cittadino utente, da chi ne ha diritto, della prestazione sociale, in modo tale da creare anche una maggiore concorrenza perché il cittadino può scegliere da chi comprare la prestazione. In questo modo pensiamo di poter dare una risposta a tanti che invece oggi possono rivolgersi soltanto alle strutture sanitarie. Pensiamo al mondo delle assistenti familiari, le cosiddette badanti, che molto spesso oggi sono persone extracomunitarie senza alcuna formazione, senza alcuna registrazione. Noi stiamo facendo questo albo dove ci si potrà accedere attraverso una formazione e solo chi sarà presente in questo albo poi potrà prestare servizio attraverso i titoli e-voucher che daremo agli ultra 75 anni, partiremo dagli ultra 75 anni non autosufficienti che saranno sotto un determinato reddito ISEE. Anche questo delle ISEE è un altro meccanismo che stiamo modificando attraverso il quoziente Lazio che introduciamo con questa legge, cioè non tenere più in considerazione solo ed esclusivamente quanto si guadagna e ciò che si possiede, ma anche altri fattori come ad esempio quanti figli a carico ci sono in un nucleo familiare, se c'è una situazione di monogenitorialità, se in quel nucleo familiare c'è un figlio disabile. Tutti i fattori che contribuiscono ad impoverire il nucleo familiare di cui noi vogliamo tener conto nel sottostabilire chi ha diritto a determinate agevolazioni per quanto riguarda alcuni servizi, le tariffe per alcuni servizi regionali. Partiremo dall'anno prossimo sugli asili nido e poi sull'RSA e gli ex articoli 26 che sarebbe la riabilitazione per i disabili.